E ha praticamente dato autorizzazione ai colleghi colombiani a chiamare il Bibe. Come si tanto! Mario Gomez per il pareggio della Fiorentina! 26 sul cronometro! Dopo aver sofferto parecchio il possesso palla della Real Madrid, la Fiorentina colpisce con Mario Gomez. Bell'azione, Babacar, l'aiuto di Sabia Alonso che praticamente mette in porta Aquilani sulla corsia di destra. Gli dà la possibilità di correre, Aquilani non se la fa sfuggire, perfetto il suo cross, è bello il colpo di testa in tuffo di Mario Gomez per l'1-1 della Fiorentina.